Ciao a tutti, vi faccio vedere un nuovo prodotto, una pellicola antigraffio per carrozzeria auto. Facciamo una dimostrazione, quindi se volete proteggere l'auto da graffi, dai sassolini che state quando prendete l'autostrada, che state dietro un camion, ogni tanto vedete che perde i sassolini e vi rovina tutto il paraurti della macchina, il cofano. Che cosa vi proponiamo? Vi proponiamo una pellicola antigraffio, eccezionale. Adesso ve la facciamo provare perché noi facciamo le dirette apposta, vi vogliamo rendere partecipi e farvi vedere la qualità dei nostri prodotti. Ovviamente l'esecutore è inutile che ve lo presento, è sempre lui, il solito, Daniel. Allora, noi prendiamo questa pellicola, andiamo con un oggetto a punta, Daniel già sta spingendo, è ovvio che fino a un certo punto tiene, se poi andiamo, 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 la rompiamo. Ma quanta pressione abbiamo fatta? Quindi, che succede? Finché abbiamo sassolini, la pellicola ci protegge. Se andiamo con qualcosa di contundente, di appunta o un sasso grande, purtroppo ci protegge, ma il graffio ci sarà. Eccola qui, adesso andiamo a fare per questa BMW, una volta installata sarà invisibile, andiamo a fare tutto il paraurti e il cofano. Diciamo che sono le parti più soggette ai graffi. Siete sempre i numeri uno. Vi ringrazio, buona giornata a tutti.